Musica Allora, puoi vedere una sorpresa? Una sorpresa? Sì, la vuoi vedere? Cosa mi fai vedere? Una sorpresa? La vuoi vedere, sì o no? Ma certo! Che cos'è questa cosa qui? Ma guarda un po'. Non ci stanno, pappagalli. Una cosa da mangiare, che bello! No, non si mangiano! Che cosa sono queste cose qui? Queste cose qui non sono cose e sono carte. Ma sembrano tutte uova. Non sono uova. Non sono uova? No. Ma sono dinosauri? No, non sono neanche dinosauri. E che cose sono? Carte! Carte Pokémon! Pitu! 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 Questa, per esempio, me l'hanno scambiata oggi. Mamma mia, ma tu ne hai tantissime allora, eh? Senti, ma ne hai tante? Me ne regali qualcuna? No, non le posso regalare. A nessuno. Quindi non te ne posso regalare nessuna. Nemmeno una? No. Vento di fata. Di fata. Senti, me ne fai vedere una dei pappagalli, per favore? Va bene. Eccola. Wow! E un'altra qui. Questo è un piccione che si chiama Pidove. Come si chiama? Come si chiama? Pidove! Pidove, dove, 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 dove? Pidove, Pidove, eccolo! Senti, per favore, ma quante sono? Ma quante sono? Ma che cavolo ne fai? Dico, questa che fa? Ma queste sono blu? Queste sono tutte blu? Sì. Mmm! E queste sono gialle. Che gialle? Ma sono di tutti i colori queste carte? Sì. E la più bella, la più bella, qual è la più bella? Mmm! Guarda. Che cos'è questa? Questa. Una volta avevo questo cane che si chiamava Leo. Cosa è vero? Oh, merda. Ma poi che ci fai con queste qui? Si mangiano? Ma ora! Poi qui non c'ho, non so che cosa cavolo metterci. C'ho una pagina in più. Me la regali? No. E che ci fai in più? Vabbè, me la tengo lo stesso per mettere. Da, che me la prendo. No. Me li fai assaggiare queste? Mamma mia, questa è tutta nera. Non si mangiano. Non si mangiano. Non lo capisci che non si mangiano. Perché quella è tutta nera? Perché è nera. Perché è nera. Mamma mia, queste sono tutte dorate. Ma questa è al contrario. Ma se questa deve essere così. Questa perché è così nera. Mamma mia, Gaia. Ma ti sei arrabbiata? No. Non capisco. Se questa è così. Come fa di essere così? Eh, perché così. Sono bellissime queste carte Pokémon. Cioè, una cosa che non capisco di queste carte Pokémon. Questa è così, giusto? Ma poi dietro va a finire così. Se qui è così, e deve essere così. Però poi dietro è tutta storta. Ma se ti fermi forse la guardo anch'io, eh. Che cos'è? Tutta strana, tutta luminosa. È tutta storta. Va bene, allora me la prendo io. No. Non ti serve. Sì che mi serve. Hai detto che è brutta me la prendo io. No, è bella, eh. Hai detto che è bruttissima, adesso me la prendo. No, è bella. Eh. E guarda Pikachu travestito. Oh. E qui che c'è abbiamo? Cari zardo. Ah, c'è un po'. Mamma mia. Signori, queste carte sono veramente bellissime. Cari zardo, mostri qua. Però vedo pochi pappagalli. La prossima volta mi fai vedere solo quelli dei pappagalli. Ok, adesso te li faccio vedere solo quelli dei pappagalli, ok? Dai, quanti pappagalli ci sono? Però il prossimo video. Il prossimo video? Sì, te li faccio vedere. Signori, prossimo video altri pappagalli. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ora ho fatto un video con tutte le carte pappagallose, ok? Le carte pappagallose? Sì.